A Sondrio il bike sharing diventa turistico. Sarà presto attivo in città il nuovo servizio gratuito di biciclette concesso alle strutture alberghiere richiedenti. Peccato che l'iniziativa prenda corpo solo alla fine della stagione estiva. È in fase di definizione infatti la convenzione tra il comune ed i rappresentanti delle strutture ricettive che desiderano usufruire dei mezzi di bici in città offerti in utilizzo gratuito agli utenti di alberghi, residence, bed and breakfast eccetera. Già tre le realtà fattesi avanti a ciascuna delle quali verranno messe a disposizione fino ad un massimo di quattro biciclette. Gli albergatori in cambio di un utilizzo incomodato gratuito si impegnano nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle bici e nella sottoscrizione dell'assicurazione legata all'utilizzo da parte dei loro clienti. In questo modo le strutture ricettive si doteranno di un servizio ulteriore andando incontro ad una domanda crescente fra i propri clienti mentre l'amministrazione rafforza la promozione dell'uso della bici come forma di mobilità sostenibile e opportunità in campo turistico ed ambientale incoraggiata dalla presenza di un'estesa rete di piste ciclabili. L'auspicio è che il bike sharing turistico trovi un riscontro migliore di quello molto tiepido che gli hanno riservato finora i residenti nonostante le tariffe altamente promozionali e la comodità di accesso tramite semplice app come dimostrano i modesti dati annui di prelievo dei mezzi dalle quattro postazioni via valeriana cimitero stazione ferroviaria quartiere sud ovest. Desidero ringraziare gli albergatori che ho incontrato per il grande interesse riposto nella proposta che ho loro formulato dichiara l'assessore all'urbanistica ambiente e mobilità di Sondrio per Luigi Morelli. Siamo particolarmente lieti che come i dati ci confermano le presenze turistiche in città siano in progressiva crescita e che la città sia sempre più apprezzata dai suoi visitatori. Con questa nuova opportunità crediamo di favorire ulteriormente la presenza turistica in città e di permettere di goderne al meglio grazie a spostamenti rapidi, silenziosi e senza emissioni incrementando l'identità di città verde ed alpina.